Aumentano in Sicilia i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime ore con un leggero ma costante incremento, tanto ad indurre il Presidente della Regione ad emettere una nuova ordinanza che segue quella firmata qualche giorno addietro. Lo aveva fatto intendere negli ultimi giorni che se i casi fossero aumentati avrebbe adottato misure più restrittive ed immediatamente i funzionari del Presidente hanno scritto una nuova ordinanza che impone i controlli sui turisti provenienti dai tre paesi più a rischio, Malta, Spagna e Grecia. Il Governatore sta lavorando su un'ordinanza che impone il tampone anche ai turisti di ritorno ma intanto al telefono con la Ministra dell'Interno Lamorgese torna a battere sul tema migranti che il Governatore cerca di tenere alto. Nel frattempo però arrivano le prime misure sui turisti, controlli che scattano dopo che il primo focolaio scoppiato con gli 11 siciliani tornati da Malta hanno contratto il virus. Si registrano i 64 casi positivi all'interno dell'hotspot di Pozzallo, dove però i migranti sono tenuti sotto controllo e non rischiano di contagiare il resto della popolazione. Sono 24 invece migranti in sorveglianza sanitaria sulla nave quarantena Gennevia Azzurra, positivi al coronavirus, ai quali si aggiungono anche sei casi dubbi. Si tratta di extracomunitari tunisini, per la maggior parte, che sono stati caricati in due differenti tornati a Lampedusa. I migranti sono infatti sbarcati nell'isola e temporaneamente ospitati nello spot di Contrada in Briacola. Una situazione davvero delicata che mette a dura prova il Governatore che è in contatto quasi giornalmente con il Ministro dell'Interno. Il Presidente ha rappresentato la gravità della situazione dei migranti nell'isola, ribadendo la netta contrarietà alla realizzazione di qualsiasi tendopoli e la soluzione da sempre proposta di navi rada per la quarantena e di rinforzi con i militari dell'esercito. Per l'una e per l'altra proposta il Ministro ha assicurato di stare già provvedendo in queste ore. Intanto però arrivano le prime misure sui turisti, gli unici che fino a questo momento hanno materialmente contagiato i siciliani.